A Milano una manifestazione contro il Green Pass è stata apertamente guidata dai centri sociali e dagli anarchici marxisti comunisti. La polizia per fortuna è riuscita a bloccarli mentre volevano raggiungere la CGL, la Regione, il Comune e persino il Corriere della Sera. La dimostrazione è che quando le forze dell'ordine hanno gli ordini giusti, scusate la ripetizione di parole, riescono benissimo a controllare i facinorosi che peraltro oggi erano molto più numerosi di quelli che si avventarono contro la CGL di Roma. E allora, quando noi diciamo che se il governo avesse voluto bloccare l'assalto alla CGL di Roma avrebbe potuto e che non l'ha fatto volutamente, troviamo in questa vicenda una totale conferma.